Mercato aperto e per il Foggia le prime ore sono state utili ad imbastire e a definire la prima operazione in entrata. Che l'esigenza del club del patron Nicola Canonico fosse quella di dare un volto nuovo all'attacco era cosa risaputa e non a caso è stato proprio il reparto avanzato ad accogliere il primo volto nuovo di questa sessione di calcio mercato. A vestirsi di rosso nero è Vincenzo Millico attaccante classe 2000 e fresco di recessione con l'Ascoli torinese di nascita ma con origini baresi. Millico è stato uno dei talenti della primavera del Torino. Conigranata ha anche debutato nella massima serie in Europa League dove segnò anche un gol contro il Debrezen al debutto. Poi le esperienze con Frosinone, Cosenza, Cagliari e l'ultima quella di Ascoli. Complessivamente il giocatore vanta 17 presenze nella massima serie e 54 gettoni e due gol in serie B. Gol che invece trovava con regolarità nella primavera del Torino. Per un attaccante che entra ce n'è uno che esce. Ha rescisso il suo accordo col Foggia e salutato tutti. Mamadou Tunkara che cercherà fortuna altrove. Il suo addio tuttavia non sarà isolato perché il cerca sistemazione o intese con tutti quei calciatori che non rientrano più nei piani tecnici o che hanno comunque trovato poco spazio finora. C'è poi da verificare anche cosa il club intenderà fare con tutti quei giocatori con il contratto a scadenza nel prossimo 30 giugno. Tra questi anche qualche big come Di Noia e Peralta. Su Garattoni che ha invece il contratto in scadenza tra un anno e mezzo. È forte l'interesse dell'Avellino. Piace però anche al Cesena. Peralta invece sarebbe stato sondato dal Catania. Capitolo Frigerio. Il centrocampista piace all'Ecco in B. E proprio dalla B il Foggia potrebbe pescare anche un'altra punta con caratteristiche più da goleador. Si attendono intanto novità circa il derby in programma sabato allo Zaccheria col Taranto. Come noto un'ordinanza prefettizia inteso chiudere per la quinta volta in questa stagione lo stadio ai tifosi. Ieri la sindaca Episcopo e altri esponenti della sua amministrazione hanno avuto un colloquio con alcuni rappresentanti della tifoseria organizzata. L'impegno della sindaca Episcopo è quello di proporre al prefetto le istanze dei tifosi che propongono una revisione dell'ordinanza con soluzioni meno drastiche come l'ingresso riservato esclusivamente agli abbonati o in subordine la chiusura solo di alcuni settori dello stadio. Gli stessi tifosi organizzati si sono dichiarati disponibili a favorire un clima di collaborazione perché non ci siano più partite a porte chiuse. All'incontro hanno preso parte anche i consiglieri comunali di centrodestra.